capitolo 80 come tutti coloro che sono soliti schernire il prossimo il soldato ranieri non era capace di sopportare lo scherno a sua volta era stato il soldato miliozzi a scagliargli contro una palla di neve hai finito di dire sciocchezze gli disse miliozzi in tono duro c'è una cosa molto più concreta di cui preoccuparci mezzo istante dopo ranieri gli fu addosso accecato dalla rabbia miliozzi lo intercettò colpendolo con un pugno in pieno grugno con una forza tale da spedirlo dritto a terra manco poco che ranieri colpisse una pianta con la testa spargendo così sulla neve tutta la sua ironia assieme al suo cervello il sergente e il caporale urlarono loro di fermarsi miliozzi non se ne accorse neanche e si scagliò contro ranieri lasciando sfogare in questo modo inutile la rabbia accumulata dalla morte di ottaviani da ancora prima da quando li avevano abbandonati in quell'inferno di gelo da quando li avevano strappati alle loro vite normali per spedirli in guerra cercò di aggirare ranieri la sua idea era quella di chinarsi su di lui e di stringerlo con un braccio attorno al collo allora il loro piccolo scontro si sarebbe concluso con ranieri che invocava pietà ma le cose non andarono secondo i suoi piani ranieri era a terra in una posizione di evidente svantaggio tuttavia aveva intuito le sue intenzioni tirò due calci e lo colpì a una gamba all'altezza del ginocchio successivamente si alzò in piedi di scatto e lo colpì due volte la prima allo stomaco la seconda al viso miliozzi cadde a terra un lampo di ferocia balenò negli occhi di ranieri che gli fu subito addosso ma senza raggiungerlo il sergente lo afferrò per le spalle e con grande sforzo lo sbatté a sedere a terra che accidenti vi prende urlò il sergente miliozzi si alzò dalla neve si pulì la bocca insanguinata con il dorso della mano e sputò a terra catarro e sangue mi prende che dovete andare al diavolo ringhiò al sergente voi e i vostri ordini la guerra e le chiacchiere di quei due idioti disse rivolgendo uno sguardo a ranieri e subito dopo a pretino la sola cosa che conta per me è tornare a casa è la stessa cosa che conta per ciascuno di noi rispose il sergente con altrettanta rabbia ed è quello che stiamo cercando di fare miliozzi si fece di nuovo avanti ignorando il suo grado voi sapete utilizzare la bussola e leggere una cartina gli domandò le sopracciglia del sergente si corrucciarono ancora di più si rispose quindi se moretti morisse potreste usare voi la mappa e la bussola disse miliozzi ma se morirete tutti e due si rivolse al caporale a pretino a ranieri e a pitacolo per quanto riguarda quest'ultimo la risposta era scontata voi sapreste utilizzarle domandò loro il caporale guardò gli altri poi rispose timidamente un pochino accompagnando la risposta con il goffo gesto della sua mano buona mentre l'altra pendeva appesa al collo all'interno della sua giubba e la manica corrispondente cadeva giù vuota sul suo viso era affiorata l'espressione ebete di chi viene colto dal dubbio quasi certo che avrebbe fatto meglio a starsene zitto ciascuno di noi deve imparare a utilizzare la mappa e la bussola disse miliozzi nel tono assertivo di chissà di avere perfettamente ragione il sergente rimase un attimo in silenzio prima di rispondere quindi fece precedere alla risposta un cenno affermativo del viso la vostra è una richiesta giusta accordò ma non c'era nessun bisogno di fare tante scene nella mente del sergente balenò il pensiero di parlare loro di come avrebbero dovuto rimanere uniti per cercare di sopravvivere ma era troppo stanco erano tutti troppo stanchi perché avesse senso dilungarsi in una paternale del genere lo sapevano tutti che avrebbero dovuto rimanere uniti per avere una qualche speranza di ritornare vivi ma era sempre più difficile rimanere uniti gli attriti interni erano sempre più complicati da tenere sotto controllo e lui non aveva fatto certo granché sotto questo punto di vista tutt'altro e ne era consapevole dopo aver acceso il fuoco moretti vi insegnerà come orientarvi per raggiungere il nostro avamposto questo basterà grazie sergente rispose il soldato miliozzi e si diresse ai ceppi che aveva precedentemente tagliato stava per accendere il primo quando avvenne una cosa inaspettata pitacolo si scosse dal suo perenne torpore e scattò in piedi puntando un dito per indicare qualcosa davanti a sé guardate là balbettò capitolo 81 un sottile filo di fumo si alzava in lontananza nel cielo bianco tutti i soldati lo sarono con gli occhi sgranati quella sottile scia indicava un accampamento ma un accampamento di nemici o di amici purtroppo tutti loro sapevano cosa era più probabile il tragitto che li divideva da quell'accampamento equivaleva all'incirca ad una quindicina di minuti di cammino 20 al massimo una distanza che diventava irrisoria se gli eventuali nemici avessero avuto a loro disposizione dei veicoli il binocolo non era sufficiente per accertarsi di chi si trattava un dosso imbiancato di neve impediva la visuale il caporale lo savio si rivolse allarmato al sergente baldini dobbiamo andare a nasconderci al più presto nella foresta gli disse nel suo tono più pessimista no intervenne migliozzi dobbiamo prima avvicinarci e sapere chi sono se sono i nostri dobbiamo unirci a loro sei pazzo non possiamo avvicinarci obiettò al caporale è troppo rischioso dobbiamo attendere che si rimettano in viaggio e controllare da lontano il sergente intanto si guardava intorno finché non scorse ciò che cercava un promontorio si trovava alla loro destra anche quello ad una distanza di circa una ventina di minuti di marcia poco di più forse sarebbe arrivato ad una trentina passando all'interno della foresta per aumentare la loro sicurezza ecco cosa faremo inizio a dire il sergente baldini ai suoi uomini capitolo 82 mai un colpo di fortuna esclamò il soldato moretti quando venne il suo turno di guardare dal binocolo l'accampamento era ovviamente un accampamento nemico contarono 16 soldati un camion attrezzato con una mitragliatrice e una jeep erano sotto il comando del soldato dai capelli rossi il volto dubbioso ostile del sergente baldini rendeva palesi i suoi pensieri sergente gli disse il caporale non ditemi che avete intenzione di attaccarli il sergente si voltò a fissarlo negli occhi in che altro modo credi che possiamo portare a termine il nostro viaggio mentre loro pattugliano queste zone che dovremmo fare morire di fame e di gelo ma ora non è il momento di discorsi avventati aspettiamo di vedere come si sistemeranno per la notte se ci offriranno un'occasione non dovremmo sprecarla tutti dentro di loro pensavano che avrebbero potuto semplicemente arrendersi ma la verità è che nessuno voleva diventare un prigioniero le cose in un modo in un altro dovevano finire tutto quel dolore doveva finire attesero senza accendere un fuoco né per scaldarsi né per cucinare per non rischiare di attirare l'attenzione alcuni soldati otto in tutto tra cui il soldato dai capelli rossi si sistemarono all'interno del camion quattro rimasero accampati attorno al fuoco addormentati ma con il fucile stretto fra le mani pronti a dare il loro immediato aiuto ai restanti quattro qualora ce ne fosse stato bisogno i rimanenti si collocarono a quadrato intorno all'accampamento uno per angolo alla distanza di circa una decina di metri l'uno dall'altro chiaramente a metà nottata i quattro addormentati avrebbero dato il cambio alle sentinelle di sicuro non gli stavano offrendo un'occasione soprattutto visto il loro numero esiguo considerato che pitaccolo non era altro che un peso in battaglia e che il caporale aveva un braccio appeso al collo erano solo in cinque baldini ranieri pretino moretti e migliozzi considerato inoltre che non c'erano punti favorevoli dove appostare dei cecchini e che nessuno di loro era un buon tiratore nella gittata dei loro fucili li avrebbe favoriti avrebbero dovuto avvicinarsi e agire rapidamente e in contemporanea per prenderli di sorpresa ciò nonostante non potevano fare altrimenti attaccare e vincere era l'unica speranza unica nota positiva avevano il fattore sorpresa e una granata a loro disposizione il sergente l'aveva portata con sé dalle poche armi rimaste nel comando di zona per quanto folle potesse sembrare questa era l'unica opzione sensata che avevano cacciare prima di venire cacciati lottare per la libertà invece che arrendersi a un periodo di prigionia che avrebbe potuto concludersi semplicemente con la morte iniziarono a scendere in silenzio pitacolo rimase indietro li vide allontanarsi e sparire ingoiati nel buio come dalle fauci di un orrendo destino il soldato pretino mentre scendeva e stringeva di nuovo il fucile per andare a combattere a uccidere se poteva ebbe la consapevolezza di quello che era il peccato di cui dio avrebbe chiesto conto a ciascuno di loro quello di non aver avuto il coraggio di rifiutare la chiamata alle armi e affrontarne le conseguenze come ora non avevano il coraggio di arrendersi invece che ingaggiare di nuovo una battaglia ma non si chiedeva forse troppo a loro non si doveva essere coraggiosi come i martiri o i santi o gesù stesso per riuscire in tali imprese non è forse di dio la colpa di tutti i loro peccati dell'immensa libertà che dio aveva donato loro e dell'immenso coraggio che era necessario per utilizzarla nella maniera giusta